Buongiorno, oggi siamo andati a pesca per il ristorante La Cappannina di Castiglione del Lago. C'è una tramontana un po' sostenuta, ma qualcosa abbiamo rimediato lo stesso, non abbiamo pescato molto, ma c'è qualcosa di interessante. Abbiamo un bel capitone, questi sono dei carassi, qualche persico reale e anche un pesce gatto. Ora facciamo una cosa, andiamo in cucina e vediamo che si può organizzare per il pranzo. Siamo tornati dalla pesca, come avete visto prima, e abbiamo preparato e pulito il nostro capitone. Perché oggi abbiamo deciso di mangiare un bel capitone allo spiego. È un pesce un po' particolare questo, molto pregiato. Nasce al mare negli abissi e viene a crescere al lago. E ora si fa vedere come si prepara lo spiego. L'ho tagliato a pezzi e ben pulito. Infediamo in uno spiedino ogni pezzo di capitone e di anguilla e mettiamo una foglia di alloro. Appena colta, che esprigiona l'aroma fresco dell'alloro. Preparato lo spiedino così, con l'alloro e basta, prima di salarlo e peparlo, lo mettiamo per una prima cottura alla braccia. Una prima cottura di pochi minuti, senza... Il capitone ha buttato fuori il grasso, che noi andremo a lavare con acqua fredda. Gli diamo una leggera sciacquatina in acqua fredda, togliamo questo grasso che ha scutato. A questo punto andiamo a salare e pepare. Abbastanza potente. E lo rimettiamo a cuocere nella griglia al fuoco. Durante la cottura è molto importante andare ad ungere lo spiedino con dell'olio extravergine di oliva retrasimeno, che è ideale per il pesce di lago, perché ha varietà dolce a goglia prevalentemente, quindi è un olio delicato che non copre il sapore del pesce. Una mezz'oretta di cottura circa, comunque quando vediamo che è ben rossolato, preghiamo il nostro spiedino e lo andiamo a piattare. Prego, siamo. Aggiungiamo un filino di olio a pruno ed è pronto per mangiare. Andiamo l'assaggiando. Adesso andiamo a assaggiare il nostro spiedino per vedere il risultato, se è stato ottimo oppure no. E al contrario di quello che si possa pensare, io con il capitone allo spiedo consiglio un vino rosso del Trasimeno, nello specifico il Gamè Trasimeno, che è un vino da sapore giovane, non molto pesante, si sposa benissimo con l'arrosto di pesce e soprattutto quello dell'amico. Direi che il risultato è ottimo, quindi si può procedere con il trame.